C'è tanta delusione e amarezza nei volti, negli occhi dei giocatori e dei tifosi del Milan. Ieri sera uscendo dallo stadio San Siro dopo la sconfitta del Milan contro il Liverpool, ho scambiato anche alcune parole con qualche tifoso, c'è amarezza, c'è delusione, si credeva un po' nella grande impresa, nella grande notte di Champions. Però la realtà dice che questo Milan non è ancora pronto per certi livelli, alla fine la classifica del girone parla chiaro, Milan ha chiuso con 4 punti in classifica contro ai 18 del Liverpool che ha stradominato il girone del Milan, è una squadra incredibile anche nelle seconde linee, ha giocatori fortissimi. È un Milan che deve però crescere, deve fare tesoro degli errori, deve imparare da questa prima esperienza in Champions League dopo 7 lunghi anni di assenza e programmare meglio il futuro. Ragioniamo a bocce ferme, ragioniamo dopo qualche ora dalla partita, oggettivamente il girone del Milan è sempre stato un girone complicato, ora è stato probabilmente bravo il Milan ad arrivare all'ultima giornata con ancora il discorso qualificazione aperto, perché ovviamente arrivare alla sesta partita del girone con la possibilità di giocarsi la Champions League, quindi la qualificazione agli ottavi, e addirittura per 7-8 minuti godere di quell'idea, perché dopo il gol di Tomori il Milan in quel momento era qualificato agli ottavi di Champions League vuol dire già tantissimo per una squadra che, ripeto, che per 7 anni e fino a poco tempo fa praticamente la Champions la guardava dal binocolo, parliamoci a denti stretti e chiaramente questo è il primo vero anno in cui il Milan torna a giocarsi un girone di Champions, lo ha fatto con grande dignità, perché in nessuna partita ho visto il Milan uscire dal campo prendendo una batosta a livello di gol e di prestazione, anche ieri sconfitta dignitosa 2-1 contro il Liverpool, così come il 3-2 all'andata, così come il 2-1 in casa con l'Atletico, le partite col Porto, la vittoria in casa dell'Atletico Madrid, sono stati tutti risultati di misura, risultati in cui il Milan ha vinto, ha pareggiato o ha perso di una rete. Questo vuol dire che manca ancora qualcosa, ma una base c'è. È inutile oggi distruggere tutto, buttare tutto alle ortiche, lamentarsi di tutto. È un Milan che pian piano sta cercando di costruire e di crescere, però ora bisogna fare solamente una cosa, solo una cosa bisogna fare ora, concentrarsi solamente sul campionato, obiettivo campionato. Non è detto, non c'è l'equazione, Milan esce dall'Europa uguale vittoria dello Scudetto, no, non è così. Però quantomeno il Milan può gestire le forze, le energie da qui alla fine della stagione, concentrandosi solamente su una competizione. È successo all'Inter l'anno scorso, è vero, ma io ripeto che non è un'equazione, che se si esce dall'Europa si vince poi un titolo in campionato. Non è così. Però è sicuramente ora una situazione in cui il Milan può guardare al campionato con più serenità, perché può permettersi di far riposare qualche giocatore stanco, può arrivare alla partita con qualche uomo in più e qualche rotazione in più, può arrivare alle partite con un po' di serenità maggiore e quindi questo può agevolare il cammino del Milan da qui al termine dell'anno. Bisogna lavorare di più sulla questione infortuni, cercare di avere una rosa e un numero di titolari a disposizione durante le partite di campionato, cercare quindi di non arrivare a queste gare con tanti giocatori assenti, perché poi anche questo ha influito. Il Liverpool è vero che ha presentato le seconde linee, però anche il Milan aveva tanti giocatori fuori, Leao, Rebic, Calabria, Giroud, Kier in difesa, insomma sono giocatori davvero molto importanti, giocatori che sono mancati. Il Milan per ora deve intervenire sul calciomercato, lo ha detto anche Paolo Maldini ieri ai microfoni di Medeset, ha detto chiaramente che Kier verrà sostituito, anche perché giustamente il Milan non può portare avanti tutta la stagione solamente con Romagnoli e Tomori. Purtroppo in questo momento se uno dei due non c'è per squalifica, per infortunio o per un semplice raffreddore, come era successo ieri d'altronde per Teo Hernandez, che ha stretto i denti ed è giocato contro il Liverpool, nonostante una situazione, uno stato fisico non proprio ottimale, ecco il Milan non può correre il rischio di mettere dentro giocatori che purtroppo in questo momento non si stanno dimostrando all'altezza. Quindi c'è bisogno di un altro titolare in difesa, il Milan interverrà sul mercato, Paolo Maldini lo ha confermato e ci sono già diversi nomi che il Milan sta studiando. Da quello che sappiamo stanno arrivando tantissime telefonate a Maldini e Massara da parte di procuratori, intermediari, stanno proponendo difensori centrali e la partita di ieri ormai è archiviata, il Milan non è più in Europa, quindi la dirigenza può focalizzarsi tutta sul mercato di gennaio. Sarà importante il mercato di gennaio perché serve appunto questa pedina in difesa, oltre, credo, questo è il mio parere, anche a qualche altro giocatore in altri reparti, soprattutto centrocampo e in attacco. Per quanto riguarda la difesa, confermiamo, come abbiamo fatto nel video di ieri, i nomi di Christensen del Chelsea, in scadenza potrebbe anche rinnovare con i Blues, quindi non è detto che sia una pista facilmente percorribile, nonostante la scadenza del giocatore, però lui piace molto Christensen ai dirigenti del Milan. Confermiamo anche il nome di Milenkovic della Fiorentina, anche lì abbiamo indagato, il prezzo potrebbe aggirarsi sui 15-20 milioni di euro, ma se il Milan dovesse trattare con la Fiorentina, noi crediamo che una soluzione poi a livello economico potrebbe anche trovarsi perché il giocatore comunque non vuole rinnovare e scadenza nel 2023 è una situazione in cui non ha una scadenza molto lunga Milenkovic, ecco perché il Milan potrebbe pensarci. In più ci sono anche le voci su Botman del Lille, anche lui è un nome interessante, già cercato dal Milan e da altre squadre in Serie A nel recente passato, come l'Atalanta, quindi è un giocatore comunque che potrebbe partire perché il Lille sostanzialmente sta un po' vendendo i suoi giocatori, li sta un po' cedendo, lo stesso Mignan ad esempio non è stato venduto per un prezzo altissimo dal Lille, nonostante il giocatore sia molto bravo e soprattutto è arrivato dopo la vittoria del campionato francese, quindi il prezzo poteva anche aumentare, invece il Milan lo ha preso per soli 15 milioni di euro, quindi bisogna a questo punto gettar via, buttare via tutte le scorie di questa brutta sconfitta con Liverpool e dell'uscita dall'Europa, il Milan deve concentrarsi solo sul campionato e ricorrere al mercato di gennaio per rinforzare la rosa.